Prima di affrontare il programma del secondo anno di scuola secondaria del primo grado di geografia, che tratterà degli Stati europei e dell'Unione europea, andiamo a vedere meglio cos'è uno Stato. Per capire cos'è uno Stato dobbiamo prima comprendere cos'è una società. Facciamo un salto nel passato. Già nel IV secolo a.C. il filosofo greco Aristotele definisce l'essere umano per natura un animale politico, cioè un animale che si aggrega seguendo delle regole. L'uomo infatti tende a formare dei gruppi organizzati con altri individui della propria specie che condividano un territorio, sfruttino le risorse naturali dividendosi il lavoro, si rapportano tra di loro come un gruppo compatto ed unito e si confrontano con altri gruppi di individui, accettano le regole e le leggi su cui si basa la convivenza del gruppo. Tutto questo è la società. Questo insieme di esseri umani forma una società. Ma quando gli esseri umani si aggregano in un gruppo, c'è qualcuno che deve guidare questa società, che deve sorvegliare che queste regole, queste norme, siano seguite. Quindi il gruppo riconosce a una persona, a un gruppo di persone, il diritto di governare. Questo potere di guidare o comandare gli esseri umani si chiama sovranità. Questo potere nel corso dei secoli vediamo che può essere esercitato da un solo essere umano, come ad esempio un sovrano, quindi le monarchie, da un organo collegiale, cioè un insieme di persone che compie azioni e prende decisioni in modo unitario, come ad esempio un'assemblea, un consiglio. Nella storia possiamo individuare per esempio il senato della Repubblica Romana, oppure ancora da un insieme composto da un capo e da uno o più organi collegiali e istituzionali, che hanno diverse funzioni, come ad esempio in Italia è il presidente del consiglio e le due camere, il Parlamento e il senato. Nel mondo contemporaneo il potere di guidare gli esseri umani è affidato appunto a un'entità che si chiama Stato. Vediamo bene che cos'è uno Stato. Uno Stato si determina in quanto possiede un certo territorio, cioè un luogo geografico delimitato dai confini, a una popolazione, ossia abitanti che risiedono nel territorio, che hanno un comune, una lingua, una religione, delle tradizioni, e ovviamente delle leggi, cioè un insieme di norme che regolano la vita della popolazione. Questi sono i tre elementi principali che determinano uno Stato. Ma chi si pone al vertice dello Stato? Si pone una persona chiamata appunto capo di Stato. Quando questa persona è un sovrano, è un re, parliamo di monarchia. Il re o sovrano ha il diritto di regnare che gli viene da un'entità superiore, re d'Inghilterra per grazia di Dio e per volontà del popolo, governa fino alla morte oppure fino all'abdicazione, cioè la cessazione volontaria del trono. Cioè un sovrano dura finché comanda, regna finché è in vita, oppure se non ce la fa più a comandare, lascia volontariamente il trono a un suo erede. Infatti la monarchia è un potere ereditario. Mentre quando questo capo di Stato è un presidente, parliamo di repubblica. Repubblica viene dal latino res publica, cioè cosa pubblica, cosa di tutti. Mentre monarchia viene dal greco monos arcos, cioè potere di uno. Quali sono le prerogative di un presidente? Un presidente governa per un periodo prestabilito, cioè quello che intercorre tra una votazione e un'altra. Ha il diritto di governare, il diritto di governare viene dal popolo, come ad esempio in Francia, che il presidente della Repubblica viene eletto direttamente dal popolo, o da un'assemblea, come in Italia il presidente del Consiglio viene designato dalle due assemblee, Camera e Senato. E il suo votere non è ereditario, ma abbiamo detto lì viene da elezioni democratiche. Quali sono le funzioni dello Stato? Abbiamo visto cos'è uno Stato, abbiamo visto chi comanda uno Stato, adesso vediamo quali funzioni svolge uno Stato. Svolge tre funzioni fondamentali. Il potere legislativo, ossia la produzione e la scrittura delle leggi, che vengono scritte e prodotte raccogliendo le esigenze e i bisogni del popolo che lo ha votato. Lo Stato, appunto, in base a queste esigenze e a questi bisogni, scrive di conseguenza le regole per condurre lo Stato stesso. Poi abbiamo il potere esecutivo, ossia l'amministrazione pubblica, questo potere applica le leggi stabilite dal legislatore e si occupa del corretto funzionamento dello Stato. In ultimo abbiamo il potere giudiziario, svolto da chi si occupa dell'amministrazione e della giustizia, che giudica l'innocenza o la colpevolezza degli individui di fronte alla legge e, in caso di colpevolezza, impone le pene previste, che possono essere sanzioni o detenzioni. In Italia il potere legislativo è svolto dal Parlamento, il potere esecutivo, ossia dall'insieme della Camera dei Deputati e dei Senatori, il potere esecutivo dal governo, ossia dalla maggioranza che è stata indicata dal popolo per condurre lo Stato, e il potere giudiziario è svolto dalla magistratura, dai giudici. Come si forma il governo in Italia? Vediamo come si forma il governo in Italia in modo da fornire un esempio per quando affronteremo i successivi Stati europei. In Italia i cittadini eleggono i deputati e i senatori, che si riuniscono, i primi nella Camera dei Deputati e i secondi nella Camera del Senato della Repubblica. Queste due Camere costituiscono il Parlamento, ossia l'Assemblea che regge il governo. Il Parlamento a sua volta elegge il Presidente della Repubblica, Camere Congiunte, il quale nomina, dopo aver consultato i parlamenti, cioè i diversi partiti del Parlamento, nomina il Presidente del Consiglio. A sua volta il Presidente del Consiglio nomina i ministri che formeranno la squadra di governo. Una volta nominati i ministri, una volta nominato il governo, la palla passa di nuovo al Parlamento che vota la fiducia al governo e gli dà il via per poter cominciare, per una legislatura che in Italia dura cinque anni. Dopo cinque anni si ritorna alle elezioni e si elegge un nuovo Parlamento, mentre il Presidente della Repubblica dura in carica per sette anni. Come funziona il governo in Italia? Il Parlamento scrive ed approva le leggi, seguendo le esigenze e le indicazioni del cittadino dal quale è stato eletto. Dopodiché il Presidente della Repubblica, che è il garante della legislatura, verifica che queste leggi non contrastino con la Costituzione, cioè con il libro fondamentale delle leggi dello Stato italiano, di cui appunto il Presidente della Repubblica è garante. Dopodiché il Governo applica le leggi approvate dal Parlamento ed amministra lo Stato con l'aiuto di altre istituzioni nazionali e locali. La magistratura controlla che le leggi siano rispettate e in caso di mancato rispetto verifica l'innocenza o la colpevolezza dei cittadini attraverso i suoi giudici e stabilisce di conseguenza, in caso di colpevolezza, le pene e le sanzioni. Così funziona il Governo in Italia. Così si esercitano il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Abbiamo accennato alla Costituzione, al libro fondamentale delle leggi in Italia. La Costituzione italiana stabilisce i principi fondamentali su cui ci si deve basare per scrivere tutte le altre leggi. Queste leggi non possono in nessun modo contraddire i dettami costituzionali. Per controllare che ciò non avvenga esiste una Corte Costituzionale che è composta da giudici esperti di diritto costituzionale ed è preseduta come garante dal Presidente della Repubblica. Ogni volta che viene scritta una nuova legge, la Corte Costituzionale e il Presidente verificano che queste leggi aderiscano alla Costituzione. In Italia la Costituzione è stata scritta dall'Assemblea Costituente tra il 1946 e il 1948 dai padri costituenti che erano esponenti della politica, della cultura e esperti di diritto che hanno appunto scritto le leggi fondamentali dello Stato entrata in vigore in Italia il primo gennaio del 1948. Questo è l'articolo 1 della Costituzione che così recita L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Quindi su questo libro si basa la nostra Repubblica e il popolo detiene la sovranità e la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione ossia attraverso libere elezioni. Bene, con questo capitolo introduttivo abbiamo capito meglio cos'è lo Stato quali sono i poteri dello Stato e come vengono esercitati. Questo è un capitolo fondamentale perché nella prima parte del nostro programma ci occuperemo dell'Unione Europea che è un organismo sovranazionale e che anche lui esercita il potere legislativo, esecutivo e giudiziario tenendo conto dei bisogni e delle esigenze dei diversi Stati europei. Arrivederci.